Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video, in questo video è un video velocissimo e volevo dirvi una cosa di cui sono molto entusiasta e che avrei voluto fare davvero molto tempo fa, come avete capito dal titolo faccio un corso di ricostruzione unghie, non sarà un corso niente di che perché praticamente sono 5 giorni di corso e in totale mi sembra sono 50 ore e appunto come attestato mi lasceranno un attestato di frequenza quindi non potrò lavorarci, però diciamo questa è un'infarinatura al mondo della ricostruzione unghie perché comunque io parto da zero, non ho mai fatto ricostruzione unghie e nessuno di me ne è fatta da altri estetisti e niente, quindi non so nulla. Faccio questo video per dirvi appunto questa diciamo novità, poi per chiedervi se vi va di vedere un futuro video di ricostruzione unghie, di quello che appunto farò sia su di me che sulle altre e poi un'altra cosa che mi sembra una cosa molto carina, di fare dei video giornalieri diciamo dei giorni che faccio il corso per dirvi quello che imparo. Io comincio il primo giorno il 10 e l'11 di ottobre, sono due giorni attaccati e quindi vorrei fare di questi due giorni il video appunto se sempre se vuoi vi va, lo dovete scrivere qui sotto nei commenti, faccio appunto il video di quello che ho imparato quei due giorni, poi nei successivi tre giorni che sono a distanza di una settimana tra loro, farò magari un post sul blog perché appunto è una cosa diciamo più veloce e mi sembra di, non vorrei spiegare un video, poi insomma vedremo tutto quello che imparerò, io ancora non so se sarà molto facile da descrivere scrivendo oppure è meglio fare un video. Comunque se appunto farò in futuro dei post vi lascio qui sotto la pagina facebook perché io lì linko sempre appunto i post che scrivo sul blog e quindi mettendo mi piace nella pagina riparate sempre aggiornate appunto anche sul blog. Il 27 venerdì mi sono andata a segnare e era la prima volta appunto che entravo nell'accademia e è bellissima, mi piace moltissimo, c'è molto l'atmosfera di estetista, tutto durante le tip decorazioni, decorate, stupenda e poi ci sono tutte quante le pareti rosa, fucsia e bianche, stupendo. Io non vedo l'ora di cominciare, appunto comincerò il 10 e starò via tutta la giornata, in questo periodo sto registrando più video di sia nell'arte che chiacchiericci possibile per appunto far sì che non si veda la mia assenza su youtube perché via via appunto caricherò i video, le monterò, li caricherò e voi diciamo non vi accorgite della mia assenza. Questo è tutto quello che voglio dirvi, spero che siate felici almeno un po' per me, io sono moltissimo contenta e infatti non vedo l'ora di cominciare anche se sarà un grande sacrificio sia per quanto riguarda appunto l'economico, un sacrificio economico che è appunto uno sforzo fisico perché mi devo svegliare molto presto la mattina, partire e torno praticamente dalla mattina alle 7.20, dalle 7 la mattina, tornerò a casa alle 7 di sera, sarò fuori diciamo tutto il giorno e quindi sarà appunto un sacrificio, però appunto voglio fare questa cosa perché se poi la ricostruzione mi piace sicuramente farò altri corsi e insomma voglio che questo, spero diciamo che questo diventi il mio lavoro. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!